Nell'esercizio di questo video viene data a mu una misura definita su tutti gli insiemi di una sigma algebra tondo a valori in 0 più infinito, ovvero valori positivi, e si chiede di dimostrare che se esiste un insieme a appartenente alla sigma algebra tondo, tale che la misura di a è finita, allora la misura dell'insieme vuoto è uguale a 0. Cosa ci sta dicendo questo esercizio? Questo esercizio ci sta dicendo che comunque definiamo una misura a valori positivi che non sia una misura banale, ovvero che non sia la misura che prende un insieme e gli associa come misura proprio la quantità più infinita, allora necessariamente la misura dell'insieme vuoto deve essere uguale a 0, cioè non possiamo definire la misura dell'insieme vuoto in altro modo. Vediamo subito come si dimostra. Allora, quindi, prendiamo questo insieme a, quindi sia a appartenente a tondo tale che la misura di a è finita, quindi questo insieme esiste per ipotesi, allora cosa possiamo fare? Possiamo ad esempio andare a scrivere a come l'unione disgiunta di a unito all'insieme vuoto, questa qui è un'unione disgiunta. Perché un'unione disgiunta? Perché ovviamente banalmente ha intersecato questo insieme, quindi ha intersecato l'insieme vuoto, è proprio uguale all'insieme vuoto, quindi l'unione disgiunta per definizione. Ma cosa sappiamo? Sappiamo che la misura per definizione sugli insiemi disgiunti è additiva, nel senso che l'unione insieme disgiunti, la misura dell'unione si trasforma nella somma delle misure, pur che gli insiemi siano disgiunti. Quindi, allora, dalle proprietà della misura, abbiamo che la misura di a, che è uguale alla misura di a unito all'insieme vuoto, è uguale, quindi usiamo l'additività, alla misura di a più la misura dell'insieme vuoto. E quindi quello che abbiamo trovato, guardando queste uguaglianze, è che la misura di a è uguale alla misura di a più la misura dell'insieme vuoto. Cos'altro sappiamo? Sappiamo che la misura di a è finita, quindi in particolare qui abbiamo due numeri uguali, si andranno a semplificare, semplicemente portando dall'altra parte dell'uguale, e quindi da questa equazione esegue immediatamente che la misura dell'insieme vuoto è uguale a zero. Faccio una piccola osservazione, ora l'osservazione che voglio fare è la seguente, che dall'equazione misura di b uguale a misura di b più misura dell'insieme vuoto. E se la misura di b è uguale a più infinito, allora non possiamo dedurre che la misura dell'insieme vuoto è uguale a zero. Perché non possiamo dedurlo? Perché se la misura di b è uguale a più infinito, guardate questo uguale qui, cosa abbiamo scritto, a sinistra dell'uguale abbiamo più infinito, a destra dell'uguale abbiamo più infinito, sommato un numero positivo che può essere da zero a più infinito, ma in ogni caso abbiamo più infinito e quindi questa disuguaglianza è sempre vera a prescindere dal valore di misura dell'insieme vuoto. Per cui non possiamo dire che la misura dell'insieme vuoto è uguale a zero, qui la misura dell'insieme vuoto potrebbe essere un qualunque numero e l'uguaglianza rimane vera, mentre è proprio in quest'altra uguaglianza qui, cioè quando la misura di h è finita, che per rendere vera questa uguaglianza necessariamente la misura dell'insieme vuoto deve essere uguale a zero. Con questo abbiamo concluso l'esercizio, quindi siamo arrivati alla nostra tesi.